È un bel servizio che, anche se non è un servizio che nasce come protezione civile, ma diciamo che si aspetta dalla protezione civile una risposta e tutta la protezione civile a livello regionale, perché qui sul punto dei vaccini non la gestisce solo il Cibiclub Mattei, ma sono tutti i gruppi comunali e le associazioni di protezione civile del sistema regionale che a turni, 4 al giorno, qualche volta anche 5, si mettono a disposizione per prestare servizio, per aiutare a compilare i moduli, soprattutto perché qui c'è la distribuzione della frutta, ci sono i tamponi e quindi la persona che arriva già dall'entrata al cancello del Codma viene indirizzata o ai tamponi o al ritiro della frutta o le persone normalmente che vanno a fare spesa all'ortus o perché no alla frutta, quindi diamo un servizio dall'ingresso in pratica del Codma fino alla fine e questo sui vaccini sono tutte le associazioni di protezione civile. Rientrate anche nella categoria dei riservizi, ci sono dei volontari che hanno ricevuto la dose? Sì, per scelta, in questo punto non so Urbino e Pesaro come si comportano, ma con il direttore per scelta c'è una lista di volontari di protezione civile che sono quei volontari che tuttora tramite i servizi sociali vanno a fare spesa, hanno contatto con le persone con il Covid e quindi visto che prima eravamo fra la categoria da vaccinare tutti, dopo qualche giorno non è stato più così, quindi alla sera con due, tre, cinque o quello che avanza riusciamo a vaccinare i volontari che hanno contatti con le persone che hanno il Covid.